Eccola qui, io sono questo, mi occupo per sopravvivere appunto mi occupo di branding e digital, ho un'agenzia che si chiama Stip di Aliana, sono uno degli organizzatori di Cibiamoci Festival, un evento di digital marketing nel food e nel wine e mi occupo di web marketing per artigiani dove c'è anche un gruppo su Facebook quindi chi è un artigiano può seguire anche lì alcune informazioni a loro dedicate, il mio compito fondamentalmente è costruire relazioni tra brand e persone, oggi Diegoli che è onoratissimo di essere dopo Diegoli perché è un personaggio abbastanza influente nel marketing, ha parlato di intelligenza artificiale, di dati ok? Quindi partiamo da un glossario per capire anche il livello di utenza, intanto allora chi è studente in marketing o che comunque non lavora nel marketing ancora, voi siete studenti, bene, chi è un marketer a fare il digital marketer? Ok, senza vergognarvi eh, non vi interrogo, ok? Chi è un imprenditore e interessa il marketing? Ok, perfetto, bene, quindi siamo abbastanza diversificati, allora è necessario fare un glossario, sapete cos'è un funnel? Non sapete cos'è un funnel? Qualcuno si? Ok, lo spiego, funnel, ok alcuni fanno questo gesto qua che è anche brutto, però il funnel è un imbuto, sostanzialmente funziona così, io ora, voi siete qui, siete in 50, cioè 60, 30, 40, ok 40 diciamo, per la questura 100 ma insomma sono 40 e di questi 40 io vi dico andate su www.pietrofruzzetti.com e iscrivetevi alla mia newsletter. Di questi, ammettiamo 100, quanti si iscriveranno? In 60. Una volta iscritti, ok, io vi manderò lunedì una newsletter con scritto acquista la mia consulenza, quanti acquisteranno la mia consulenza? Tre. Beh, questo è un funnel, al momento in cui si chiede un intervento da parte dell'utente, più l'intervento è importante, più si riduce la molle di persone che agiscono, ok? Tasso di conversione, quindi viene verificato come un imbuto. Dati demografici, quindi continuiamo sul glossario, dati demografici, cosa sono? I dati nostri personali, no? Su cui poi interagiscono tutte le intelligenze artificiali, tutto il remarketing, quindi sesso, età e via dicendo, ok? Chi è che fa Facebook advertising? Ok, chi utilizza AdWords? Ok, perfetto. Per chi non lo sa c'è una differenza tra domanda latente e domanda manifesta, quindi altro glossario, altre due parole da utilizzare che magari potrebbero venire fuori. Domanda latente tutte quelle persone che in quel momento non stanno facendo una ricerca rispetto a qualcosa, ma hanno potenzialmente, sono potenzialmente clienti per un determinato servizio. Domanda manifesta tutte le persone che digitano voglio comprare questo, ok? Domanda manifesta, domanda latente. Queste sono le tre informazioni per fare glossario, per essere tutti allineati su quelle che sono poi il percorso che faremo oggi. Quindi si parla, è veramente figo perché si parla di dati in un modo pazzesco, questi big data, eccetera, ma poi a un certo punto ci scordiamo che dietro a tutti quei siti internet lì dove noi, che noi andiamo a ottimizzare, no? Sul nostro sito come imprenditore, sui siti che seguiamo da consulenti, non ci rendiamo conto che dietro ci sono delle persone, ci sono delle persone che sono interessate a dei momenti che contano, ci sono dei momenti che contano per loro. Noi li vediamo come numeri, li guardiamo su Analytics, vediamo gli IP, vediamo tanti dati, ma poi fondamentalmente non ci ricordiamo che poi sono persone come noi. E Google, nonostante dica di sfruttare i big data, ci dice anche questo, ci dice anche che una persona ha dei momenti suoi in cui fa ricerca online, dei momenti per divertirsi, allora magari va su YouTube a vedere un video specifico, momenti per imparare, voglio imparare a suonare la chitarra, momenti per informarsi, voglio informazioni su un prodotto specifico, su un brand. Io ad esempio parlavo prima che in queste situazioni qua si va un po' in agitazione a stare sul palco, quindi si suda, si fa quella che si chiama pezza, io ovviamente mi sono messo la camicia bianca apposta, ma se uno la fa in quel momento che conta per lui, che fa? Come risolvere il problema della pezza sulla camicia? Gli arriveranno fuori tutti i risultati. Quello momento che conta per lui, esserci, essere presenti lì, vuol dire soddisfare un'esigenza, una domanda manifesta. Momenti per acquistare, solo all'ultimo inserisci i momenti per acquistare, tutti i clienti, tutti gli imprenditori pensano solo esclusivamente a questo momento, ma in realtà è un percorso, è da questi momenti qua che noi possiamo permettere alle persone di acquistare direttamente. È in questi momenti qua che forse possiamo evitare di lavorare sul funnel. I momenti sono contraddistinti da alcuni segnali, come trigger per la fotografia, luogo, dispositivo, orario. Immaginatevi sulla domanda manifesta, se io cerco pizza alle 3 e un quarto a casa mia, è probabile che io stia cercando come fare la pasta per la pizza. Ma se io lo cerco in centro a Firenze, e sono di Verona, e in centro a Firenze, vicino a tutti i ristoranti, alle 19 e 15 cerco pizza, è molto probabile che io stia cercando un ristorante. Sono due momenti totalmente diversi, uno per imparare, quello dei 3 e un quarto per fare la pasta, uno per informarsi e di conseguenza per acquistare. Quindi noi dobbiamo stare attenti ai segnali che l'utente ci dà. Questi segnali generano l'intenzione, che è la cosa più potente che abbiamo a disposizione, analizzare l'intenzione delle persone. Stiamo tutti pensando, tutti tendenzialmente e aborriamo il fatto che si possa pensare che a stirare sia sempre la donna. Poi però, casualmente, quando si va a fare la sponsorizzata, devo sponsorizzare quel ferro da stiro, oppure quel prodotto per... Si va, sicuramente donna, 30-55 anni, non è così? Perché? Perché stiamo probabilmente sbagliando. Non stiamo guardando le intenzioni. Siamo sicuri che gli uomini non stiano cercando? Non ci sono uomini single che devono stirarsi le camicie? Forse sì. L'intenzione delle persone è più importante e utile dei dati demografici. Questa non l'ho scritta io, l'ho scritta Google. E vi posso garantire che è vero. E poi vediamo perché. I professionisti del marketing che si basano solo sui dati demografici per raggiungere i consumatori rischiano di perdere oltre il 70% dei potenziali clienti. 70%, cioè voi quando fate le sponsorizzate, sapete già di sapere e aver identificato il vostro target, probabilmente state perdendo il 70% dei vostri clienti perché non state pensando all'intenzione. ora non si legge ma il 40% degli acquirenti di prodotti per l'infanzia vive in famiglia senza figli. Il 40%. Com'è possibile? Il nonno non ha figli, l'amica di una mamma non ha figli, la zia non ha figli, lo zio non ha figli. Quante persone fanno ricerche e poi successivamente in relazione alle ricerche agevola l'acquisto alla persona interessata? La sua ora non si vede, ve lo leggo da qua. Il 56% delle ricerche da dispositivo mobile correlate ad articoli sportivi viene eseguito da donne, 56%, più donne che uomini. Fonte Google, il 45% delle ricerche da dispositivo mobile correlate a materiali per la casa, cose tipo Bricoman, viene effettuato da donne, il 45%, cioè cercano martelli. Il 68% delle persone che cercano prodotti per la cura e la pelle è uomo. Il 68% è uomo, perché? Probabilmente perché si vergogna, non va dall'estetista, si vuole creare prodotti in casa, ma sono intenzioni. Cioè se pensiamo solo, e lo diceva Gianluca prima, se pensiamo solo con l'intelligenza artificiale, di fare le sponsorizzate, di sapere di conquistare le persone, abbiamo sbagliato tutto, non abbiamo capito il senso del gioco. L'insieme dei segnali identificano in modo chiaro la struttura della domanda che il brand deve intercettare. Io a questo punto ho tutti i segnali che mi permettono di comprendere come intercettare la domanda e come riuscire a dare la risposta giusta in quel momento. E la risposta giusta non è così semplice. Per noi abbiamo un compito estremamente difficile e ora vi faccio capire perché. Abbiamo tre punti, se vogliamo sintetizzare, se volete diciamo portarvi a casa qualcosa da provare, da testare, fin da subito noi in agenzia facciamo. Trova il punto in comune tra i tuoi obiettivi e quelli delle persone, potenziali clienti. L'obiettivo nostro di imprenditori, di consulenti non può essere quello di far acquistare, deve collimare con quello che è l'obiettivo dell'utente perché sennò lui non acquisterà. Se io ho forato, non cerco un rotino da acquistare, cerco qualcuno e mi spieghi come cambiare la gomma. Definisci touch point. Se io ho forato, devo capire in quel momento lì quale sarà il mio punto di contatto. Quindi l'azienda deve dare il contenuto giusto per quella persona che ha forato. Vivi tu stesso l'esperienza, spero di avere tempo, facciamo una prova, fantastica mi piace così. Porta la sedia, porta sulla sedia, vai. Prendiamone due, vai, almeno si fa una cosa anche figa. Scusate, posso? Allora, noi facciamo così in un'agenzia dove si può perché ad esempio ora mi è capitato un odonto tecnico quindi è un po' più difficile. Mettiti a sedere, vieni, sì, sì. Allora, ti chiami? Davide. Davide, Davide, guida, vai. La macchina? Vai, guida la macchina. Allora, dove andiamo? Porta da dove ti va il cuore, dove va il cuore, vai. Romantico. Noi stiamo guidando, facciamo partire anche una musica dell'automobile, che dici? Hai mai cambiato una gomma? No. Non ha mai cambiato una gomma, ok. Vabbè, Davide sta guidando a un certo punto. A un certo punto cosa succede? Fantastico, pazzesco. A un certo punto, boom, si buca la gomma, si buca la gomma, si buca la gomma, vabbè, è un'altra macchina che sta passando. Si buca la gomma. E ora? Ti mancano dei dettagli. Sì, la musica si può spengere? La musica si può spengere? Grazie. Allora, sono le 22 e 30, ok? Sei lontano da casa, che sei a Firenze, i tuoi sono di? Roma. Roma, quindi. E quindi non c'è nessuno aiutarti, che si fa? Assicurazione. Assicurazione alle 22 e 30 risponde per te, sicuramente arriverai in orario, ok? Fai come ho fatto io, cavolo, c'è un cavolo di rotino, un po' dovevo prepararla prima con te. Allora, touchpoint. Google. Google, bravo, vai. C'è uno smartphone? Eh, valla a prendere. Non mi fa perdere tempo nello spiccio, c'ho ancora 20 slide, via. Allora, Google, Davide sta, sta vedi, c'è anche forse, è un iPhone, quindi è già un problema. Cerca, che cosa cercherai? Come cambiare la gomma? Ah, come cambiare la gomma? Non dobbiamo spiegare dell'auto. Dell'auto. Come cambiare la gomma dall'auto? No, pazzesco. Google? Ammazza, sa addirittura. Ci ha dato, se è andato a vederlo, e ci ha dato proprio una lista delle azioni da fare, ok? Fantastico. Lui lo sa ai momenti che conta, cioè non ha bisogno... In una schermata... Stai ridendo per lui? No, no. In una schermata sa che cosa dobbiamo fare. In una schermata. Cioè io mi è successo, e questo spiccio ormai, oggi è l'ultimo giorno, però ho portato da un'altra parte e sono andato a cercare come cambiare la gomma. Ho trovato un video YouTube, perché effettivamente a me così non mi riusciva, perché non avevo mai cambiato una gomma. Allora, dice, e mezzo, che cosa ho fatto? Video YouTube di una tua scuola di guida di Ponsacco, ok? E questo qui con un accento molto toscano mi spiegava come cambiare la routine. Ce l'ho fatta! In mezz'ora ce l'ho fatta. Ma noi dobbiamo analizzare questo. Cambia la routine? Dov'è la ruota? Vabbè, davanti, facciamo davanti, dai. È quella lì davanti. Da dentro la macchina cambia la ruota, a meno esci dalla macchina. Allora, cambia la ruota, vai. Ricordati che te non sai come cambiare la ruota. Qui io devo guardare sempre Google. Allora, inserire la prima marcia e tirare il freno a mano. Ok. La macchina è laggiù. Fantastico, vabbè, dai, questo io si sperava di saperlo. Allentare i dadi della ruota a croce. Vai, allenta i dadi della ruota a croce. La ruota a croce. I cric, questa roba qua, non c'è niente. Non c'è nulla, non mi dice nulla. Devi andarla a prendere, sollevare. More items. E vabbè. Ok, però fondamentalmente io ero così. Allora, avevo la torcia, così. Facevo praticamente, allentavo i dadi e poi alla torcia, poi leggevo, poi torcia. A un certo punto ho visto una persona, era interrogata tipo spia, no? Perché gli sparavo la torcia in faccia. Insomma, non era bello. Però, però sono riuscito. Se non riusciamo... Grazie Davide, è stato un piacere. Puoi portare via tutte le due le sedie? Sì. Grazie mille. Grazie Davide. Ma si filano? Non lo so. Grazie. Questo dobbiamo fare noi quando dobbiamo intercettare le persone. I momenti che contano sono quelli. Ma vi immaginate la scena di risolvere un problema a una persona in questo modo? Ma che relazione avete poi con quella persona lì? Si ricorderà di voi. Non c'è verso. Questa è una definizione di brand. Sentita, bla bla bla. Il brand è un insieme di percezioni nella mente dei consumatori. Siamo ancora a parlare di percezione e consumatori. Che sono due cose che mettiamoci anche in mente. Sono tre elementi che a me mi fastidiscono. Prima è consumatori. Vuol dire un contratto tra me e te. È qualcosa di poco romantico. Non ha senso. Ancora oggi dobbiamo avere un contratto tra me e te per acquistare e per vendere. Mente. Nella mente dei consumatori non si parla di cuore. Si parla nella mente. Percezioni. Cioè io non ti dimostro qualcosa. È un insieme di percezioni. Punto. È una promessa. È una premessa. Non è nient'altro. No, io voglio qualcosa di tangibile. Secondo me il brand è questo. Il super brand è quel brand che è presente nei momenti che contano per le persone. È questo il super brand. È questo il brand. E il super brand non è quel super brand che scrive nella bio, sono leader di settore. Non è così. Il super brand è quello che realmente vuol fare la differenza. è veramente quello che si prende la briga di essere lì presente nei momenti che contano. È sempre presente nei momenti che contano. Ma quante volte vi ha salvato la vita, Salvatore? E scusate, non per dire, eh, l'ha capito dopo perché tanto guadagnava già abbastanza, ma poi a un certo punto ha iniziato a fare 20 e fa così, eh. Ma perché? Non perché è intelligente, perché è bravo, perché è presente nei momenti che contano. Ricetta segreta, tanto la vogliamo tutti. Per me, per la nostra agenzia, brand positioning, content marketing, personal branding. Brand positioning, perché? Perché non necessariamente dobbiamo essere leader di un settore molto ampio. Troviamo una nicchia di mercato. Noi facciamo digital marketing, strategia per aziende che lavorano nel settore delle macchine per cucire. Abbiamo costruito un brand, un rivenditore, piccoli budget, piccoli, 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 piccoli. Analizzato il mercato, il mercato, tutti i rivenditori vendono macchine per cucire. Quante cavolo di macchine per cucire dobbiamo vendere? Cioè, non ci si fa, bisogna trovare qualcosa di diverso. Cioè, bisogna dare un elemento importante alle persone. E allora, che cosa ci abbiamo messo? Abbiamo iniziato a dirgli, guarda, chiamati dottor Cuscito. Inizia a riparare le macchine per cucire. Ci guadagni? Sì, facciamo un piccolo business plan. Ci diamo un po' se le risorse ci sono per poter investire e per poi avere delle revenue. Ci sono. Ha trovato la sua nicchia di mercato. Content marketing, crea contenuti che sono inerenti ai momenti per imparare, per informarsi, per divertirsi. Personal branding, si è messo in prima persona. E ha iniziato a raccontare il suo brand personalmente. Abbatte le barriere personal branding. Siamo partiti a settembre, dal rivenditore, col nome dell'azienda. Gli abbiamo chiesto di fare il cambio a dottor Cuscito. E queste sono le performance. Se vedete lassù, non c'è stato grande, per chi conosce quelli in site, quelli più scuri sono le campagne a pagamento, quelle più chiare le campagne organiche. Non stiamo investendo tanto, ripeto, budget piccolissimi, ma in organico raggiungiamo maggior portata sui post. Perché? Perché siamo lì presenti. Recensioni, non ne aveva una. Ci sono state nell'ultimo mese 23 recensioni, neanche una negativa, delle persone che lo ringraziano per avergli risolto il problema della macchina per cucire. Ma da chi andrà a comprare la macchina per cucire poi quando dovranno sostituirla, secondo voi? Da quello che gli ha detto no, mi dispiace, questa qui non conviene ripararla, te la devo vendere una nuova? O da lui che gli ha fatto riparare la macchina per cucire a pagamento, ma gli ha fatto spendere molto meno? Boh, lo sapete. E quindi quello che dico io, secondo la nostra esperienza, è che il funnel, che è questo percorso dove noi creiamo una strategia che è totalmente lineare, dove pensiamo alle persone con tutti questi big data, facciano tutto quello che noi ci siamo prefissati di fare, eccetera, arrivino poi a conversione. Se non c'è un funnel non si vende? No. Noi vendiamo con un momento, intercettiamo un momento delle persone e vendiamo perché il super brand va dritto al cuore delle persone. e quando va dritto al cuore si compra. Se non la cioccolatina lì è in cassa, non la metterebbero, per i vostri problemi di cuore, no? Cioè, è inutile studiarsi tutti i libri del mondo se poi dopo ci scordiamo le armi della persuasione che può essere obsoleto ma funziona tanto ancora. la reciprocità. Lui mi ha salvato da quello e mi voleva vendere una macchina per cucire che costava 2000 euro, con 100 euro mi ha fatto la revisione. Come mi sento nei confronti di questa persona? Non posso non amarlo come brand. Ed è qui che dobbiamo iniziare a ragionare sul nostro brand. Sull'idea che dobbiamo fare la differenza e essere differenti. Ieri ho parlato con Giuseppe Maier di Armando Testa, gli ho fatto un'intervista veloce che poi pubblicherò sui social e gli ho chiesto ma ad esempio come si può avvenire a lavorare in Armando Testa? Devi fare la differenza, specifico. Non fare tutto. Fai una cosa, fatta bene, ti prendono. È così per tutto, per il vostro mercato, per tutti i mercati è così. Non serve fare bene tutto. Facciamo bene una cosa, fatta bene e creiamoci un brand strutturato. Il nonno di Peter Park diceva da grandi poteri devi arrivare grandi responsabilità. Mio nonno mi diceva da grandi responsabilità devi arrivare grandi poteri. Perché? Perché ci prendiamo la responsabilità di essere in quel mercato e riuscire in qualche modo a raggiungere le persone, a dare quello che vogliono. Questo ci permetterà di avere grandi poteri, che per un marketer è vendere di più, avere più like sulla pagina, fare sulla pagina, avere più like sui post. È questo il succo per quanto ci riguarda il segreto, secondo noi, per poter, anche con budget piccoli, riuscire a arrivare alle persone. Ma serve sicuramente la capacità di iniziare a mettersi in prima persona perché se si ha piccoli budget non si può fare a meno e trovare una nicchia di mercato. Io non so se sono stato lungo, corto, eccetera, non so niente, però perfetto, fantastico. Se ci sei. Grazie. Allora, si parlava prima di funnel, no? Quindi siete ora, siete ammontati, siete in 100, di 100 in 30 andranno qua, in 20 qua, in 10 qua, ecco, questo è un funnel, tasso di conversione diminuisce a seconda dell'azione. Però mi potete trovare in queste situazioni qua, quindi a chi gli interessa, chi non è interessato, beviamoci su, basta e pagate voi. domande, dubbi, perplessità? Tanto ci vediamo anche fuori, se no, a posto così. grazie. Grazie.